leggende metropolitane luoghi e misteri ad essi collegati sotto gentile concessione degli amministratori del sito storie inspiegabili che trovate in descrizione in questo video mi accingo a raccontarvi questa storia buon ascolto passando vicino al castello di villalta si potrebbe scorgere sulla torre più alta una figura immobile è il fantasma di ginevra una giovane bellissima donna di un passato remoto che ancora oggi dopo secoli testimonia che l'amore al tempo del medioevo non era una cosa semplice ginevra figlia del signore di strasoldo era una giovane bellissima ragazza e come era usanza tra i nobili del medioevo era stata promessa sposa a federico di cuccagna un signore la cui famiglia era regata al patriarca di aquileia l'accordo tra le due famiglie prevedeva il matrimonio dei figli quando questi sarebbero divenuti più grandi gli anni passarono velocemente ma quando arrivò il tempo delle nozze ginevra si innamorò del conte odorico di villalta che aveva conosciuto per caso poco tempo prima d'un ballo ginevra non voleva rompere l'accordo stipulato anni prima dal padre allora si recò da lui aprì il suo cuore gli raccontò dell'amore che la legava al giovane odorico il signore di strasoldo a sua volta per il bene che voleva la figlia decise di acconsentire al matrimonio con il conte ed in questo modo in franza il patto con i cuccagna correva l'anno 1344 quando ginevra di strasoldo odorico di villalta si prepararono per il matrimonio ginevra preparò tutti i suoi bagagli e partì alla volta del castello di villalta ma il giorno delle nozze mentre il corteo della sposa stava per raggiungere lo sposo che la attendeva nei pressi del ponte di villalta giunse la notizia che il castello era stato assalito da una banda di predoni odorico si preparò alla battaglia fece portare via ginevra che nel frattempo era svenuta per l'emozione quando la fanciulla rinvenne all'interno del castello di villalta vide di fronte a sé il suo ex promesso sposo il cavaliere federico di cuccagna che furioso per l'affronto subito tentava di rapirla federico non riuscì ad afferrare la fanciulla perché narra la leggenda la giovane fanciulla si tramutò in una stato di marmo odorico ha preso il tentativo di rapimento radunò un gruppo di cavalieri a lui fedeli che lo aiutarono a riprendersi il castello e nella sfida duello con federico e belameglio uccidendo l'avversario il giovane entrò nel castello e si mise alla ricerca di ginevra ma trovò solo una stato di marmo che assomigliava alla sua sposa in una stanza subito gli fu chiaro che non era una semplice somiglianza tra le due donne era proprio la sua ginevra che era diventata di pietra sconvolto e in lacrime odorico abbracciò la statua nel pieno del suo dolore ebbe una veravigliosa sorpresa la statua iniziò ad animarsi e la fanciulla riprese le fattezze umane in una favola questo sarebbe un degno leato fine ma purtroppo questo non lo è e per i due giovani non era previsto il classico finale e vissero felici e contenti quello era un periodo molto tumultuoso e molto presto dorico partì per l'ennesima guerra e ginevra rimase ad attenderlo il giovane però non fece mai ritorno al castello e la fanciulla per nulla rassegnata non smise mai di aspettarlo si dice che ancora oggi nelle notti di luna piena è possibile sentire i tristi lamenti della bella ma sfortunata ragazza l'amore è un qualcosa che molto spesso va ben oltre la vita terrena